Uè bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video andiamo io sono indietro non è non è stile x non è stile x secondo me non mi hanno visto situazione drammatica ragazzi io potrei essere arrestato io ero sono io io ero sono io perdono no 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 mi hanno mi hanno mi è arrivato una mi è arrivato un headshot mi è arrivato pezzo di merda senti bene bastardo come non fa ridere questa cosa capo non è facile non ho fermi non è fa non ho fermi non è facile dai mezzaluna fai tutto mezzaluna fai tutto tutto mezzo benedirò il signore in ogni tempo benedirò signore ma come cazzo porco diaz posso fare porco diaz no dai forza no no perchè io devo cominciare le mie partite del cazzo la mattina a combattere e scappare dai cazzo di dinosauri secondo me oggi stream alla palmi ma pu***i non è quella s***** ma il diavo non ha s***** dai ti prego zio pino allora senti allora senti senti ragazzi allora allora squadronetti no figlio di putta com'è possibile come cazzo è possibile troio come stasso è possibile come cazzo è possibile che si è preso due pompate più i colpi di AR ha avuto lui la meglio siamo contested siamo contested loca 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 loco come loca c'è un mingonaggio c'è un mingonaggio c'è un mingonaggio si si che cazzo è cazzo è ma la su sto cazzo cogliene su sto cazzo mi devi ballare cogliene cazzo figlio di puttana pezzo di ma***a figlio di puttana pezzo di ma***a e cazzo figlio di cazzo 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 che voce che voce che voce che voce E Dio, aspetta! Perchè non si è agganciato? Perchè non si è agganciato? Non lo accetto! Non lo accetto! Non lo accetto! Non lo accetto! Forco mondo! Aveva uno di vita questo! Bella questa hit comunque! No aspetta, perchè voi mi mettete in soggezione però adesso... Aspetta un attimo! Ha ragione, ha ragione! Scusate, aspetta un secondo! Mi si è ad un secondo che... Aspetta! Allora, secondo me la banana mi da dei problemi! Un secondo! Eh, mi sa che è la banana, si si! Fa salire! Pronto! Aspetta un attimo, aspetta un attimo! Ok, ci sono! Ok, perfetto! No, quasi quasi! Perchè è scivolosa! No, scusami! Un attimo adesso! Ah! 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 Ma guarda quella! Puttana! Quanti team siamo lei contro due o forse pensavo che non mette volevo fare una cosa aspetta il problema è che qua le do anche un altro termine si trovano in un cosiddetto pinche quindi in c'è una vicina che c'è un pinche che no no non è non è la stessa cosa silenzio del 2.800 due partite scendo e puscio a puttana e mamma da torta cabucchina se a te piace ciucciare il peee e se ti piace proprio qua per carità fibi mediale in pulso in o2 ma sei deficiente ma cosa fa vuoi sentire è lontano è lontano è lontano spari l'arco sotto i piedi allora questo non è un viaggio turistico e io non mi sto divertendo il suo lievito ma piaccia prendere il beghello basta bida let's go c'è uno che la guarda e lei che mi guarda ma se giusto ma come fanno volta non lei lo fa posto c'è uno che la guarda noi ci stiamo preoccupando di del perché che si da non riesce a starmi vicino noi ci preoccupiamo del perché si da non riesca a starmi vicino mentre gioco salve non puoi farlo è un ucciso per l'arco devo ammazzarvi tutti però guys la quadruple kill lol io non so parlare d'amore l'emozione non la voce provo snappi si lo giuro e li sento in modo atroce se uno snappo con il pompa incontrerò ed una pistola io andro lo sai che cosa che cosa farò con il picapio me ne andrò per le colline alla ricerca di galline ma non so neanche un perché andiamo ciao 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 ciao